Sono qui al Saporè, pizzeria su Via Libertà, di cui mi sono già occupato in un altro video. Oggi, anzi questa sera, all'indomani della vittoria di Trump alle ultime presidenziali americane, non poteva mancare, eccolo la dov'è, la pizza dedicata alla vittoria di questo signore che era dato da tutti, sfavorito, eccola qui, è il pizzaiolo, è lui, e quindi Gerardo, due paroline, un'ennesima pizza a questa vittoria inaspettata di Trump, a chi la dedichiamo questa pizza, a Trump e basta, all'America libera, benissimo, allora con questa immagine, Gerardo sorridente, evidentemente gli era simpatico, vi lasciamo e ci auguriamo che l'America possa andare sempre meglio insieme all'Italia.